L'aspetto più importante è che il retenimento per me, se non ci sono, ciò che adesso si è avanti, ma non ho menzionato che abbiamo detto che anche se la rifneria è in sospensione e il retenimento che deve mantenere. Però, ma ancora, la nostra lezza è l'evoluzione dell'Asterno di Porta, che anche se la rifneria si è in sospensione oficina, l'Asterno di Porta ha la confianza che il nostro paese ha fatto il passo necessario per mantenere una disciplina presuppostaria che è duradero, che è buono per il nostro paese a lungo termine, ma anche un manegro economico che è buono per il nostro paese. E io trovo che sia qualcosa di importante. Certo che il nostro paese non è venuto dal punto di vista che la rifneria si è avanti, 31, ma a tutti sarebbe, che la rifresso sia un paese, a me600. E se si agarre il utilizlers services, cioè un'associazione dagli minuti, a tutti famoso, sospensione di noi, la rifrazione di strutture, e alla riflessione dell' multipliedonferenza commerciale fosse l'evoluzione dell'interno pubblic одной, maialità molto, non sono andate di ritorno. e trovo che mi piaceva il nostro orgoglio e la nostra confianza per il futuro. Perciò mi sa che la compagnia, l'individuo, nel momento che ci sono sempre inseguri nel futuro e perciò che non ci sia un'inversione, non ci sia un'inversione qui, ma anche per l'arguenza della rifine. Perciò ci sono anche in un'instituzione per il nostro paese a il mondo, e ci si trova un'ispazione che erano con un'inversione, come ci stanno rispetto a questi pensamenti. ora non sono una decisione e tam vede in orgoglio con la nostra cara con la turdia e di dos punto mi dico che era importante di evoluzione e lo quale ora si pa' delante sta con standard of course aduna a RUBA un anio adicional pa' por llega a un deficit di 3% non so' papi arriva sa qui a alguna conferenza anterior non so' papi arriva importancia pa' a RUBA llega a un deficit di 3% non mas alto di 3% di nostro GDP di nostra produzione total e ha qui a nostra papi ha un deficit di alrededor di 175 milioni di florin basare il quale non so' quere con la economia lotata in anio seguente e ha qui standard of course aduna non so' quere co' a RUBA portuma un anio mas pa' llega na e3% aqui e mi de quere sigur baldi e situxion co' e rifneria ta' den suspension e ta' bom co' non sta haia un anio mas pa' llega na e3% to' a qui Grazie.